2 maggio 1859. Nasce a Walsall Jerome Klapka Jerome, scrittore e giornalista britannico, autore del romanzo umoristico Tre uomini in barca, ispirato al viaggio che l'autore stesso compie con la moglie in luna di miele lungo il Tamigi. Sostituendo la figura femminile con un paio di amici maschi, Klapka riesce a creare una satira lontana dai cliché tradizionali, traendo comicità dall'osservazione delle situazioni più comuni. Il libro, pubblicato nel 1889, ha un successo immediato ed è rimasto in stampa sino ad oggi. Nei 20 anni successivi vende più di un milione di copie in tutto il mondo e viene adattato per film, show per la tv e la radio, per il teatro e anche per un musical. Jerome Klapka Jerome muore nel 1927. Grazie a tutti.